Musica Primo tempo di FC Senzanome contro le altre master Andiamo da qualche protagonista, incarnato Primo tempo no, tu chi ti sembra? Primo tempo mai io No, il 5, come siamo? Eric Eric, vieni qua, 0-0 Hai occasioni da tutte e due le parti, che si fa? Non si riesce a segnare Che problema c'è secondo te? Di squadra secondo me Di squadra? Andiamo da Marino, forse ci illumina lui 0-0 Cosa manca? Manca solo il gol Manca solo il gol Abbiamo scivato troppo, siamo poco cinci sotto porta Abbiamo migliorato sotto questo punto di vista Ok, bocca a nuova, è secondo te Andiamo da... da? Carbone 0-0 Partita molto abbattuta, principalmente a centrocampo Vediamo cosa la potrà sbloccare Secondo te cosa manca? La prima presenza per te, giusto? Sì, la prima presenza Cosa è che non sta funzionando nel gioco di questo Real Climaster? Probabilmente ci stiamo annullando entrambi con un po' di tatticismo Però riusciremo a sbloccare, spero noi Ok, bocca a nuova per il secondo te Buonasera, siamo con i migliori in campo Petito e Panico per FC Senza Nome Invece tu per Real Climaster Com'è andata la partita? Male, abbiamo perso E cosa è mancato? Gioco? Assolutamente sì Non c'è stata un'apertura di gioco Abbiamo solo verticalizzato, senza alcun senso Cioè si partiva così, come dei cavalli E qual è il... cioè anche qualche reparto che non ha funzionato? Centrocampo Centrocampo E senti una cosa, vuoi dedicare la prestazione? Visto che sei stato il migliore? Vuoi dedicare la prestazione? No, no, no No, no A nessuno proprio è stata una prestazione indegna Quindi se io sono stato migliore in campo Immagino gli altri secondo me come hanno giocato Che hai segnato? Tu hai fatto segnato Buonissimo Complimento Ok, grazie Ciao, appetito Passiamo a Panico Grandissimo gol che permette i tre punti Portare i tre punti a casa Sì, sì Com'è andata la partita? Andata perfetta In tutte le parti hanno funzionato E il gol lo dedico alla mia squadra Perché ha meritato per il primo al secondo tempo Ma è la prima presenza che fai? No, la seconda Seconda, quindi mister incoronato ti sta convocando? Sì, sì Ok, possiamo salutarti In bocca all'uomo per il progetto del campione Grazie